Preghiera della Sera Signore dei lavoratori della Tua vigna del mattino e della sera, ricompensali per tutti i loro sforzi con Tuoi favori. Aiutali a lavorare nel Tuo campo con un amore instancabile. Fa che alla fine del pomeriggio si riposino in Te e recuperino le forze per riprendere il loro lavoro di evangelizzatori in tutti i luoghi della Terra. Amen Grazie